La millenaria Abbazia di Santo Spirito è attualmente una prestigiosa dimora di campagna, che dedicherà al vostro matrimonio i suoi spazi incantevoli, la sua antica chiesetta e una serie di servizi accurati per la realizzazione di un evento esclusivo. L'ala di questa abbazia riservata ai ricevimenti si dirada per splendidi saloni, incantevoli giardini, un parco immenso, un vasto porticato e un'antica corte. La sala ricevimenti è un ambiente di sorprendente bellezza ed armonia, dai soffitti voltati, che si apre verso l'esterno attraverso le sue ampie finestre attorno alle quali si stagliano le riproduzioni degli antichi stemmi dei cardinali, che nei secoli hanno mantenuto il controllo dell'abbazia. Questo spazio può accogliere fino a 160 invitati comodamente seduti in un unico ambiente. Adiacente alla grande sala vi è un ambiente più intimo, dalla capienza di 40 invitati, adatto sia per un banchetto raccolto che per ospitare l'orchestra e le danze serali. La cappella privata dove potrete celebrare il vostro matrimonio è un'antica chiesetta romanica risalente al 1282 e tuttora consacrata. Il grande parco con i suoi giardini fioriti si presta per accogliere all'aperto il vostro ricevimento o anche una suggestiva cerimonia con rito civile. Sul limitare del parco si erge un antico porticato adatto particolarmente per allestire i buffet dell'aperitivo. L'abbazia di Santo Spirito è una splendida location dove incorniciare cene di gala, pranzi di lavoro, meeting o servizi fotografici.